uno ok benvenuti a un nuovo appuntamento di Cantine d'Italia come sempre controlliamo prima se i nostri amici cominciano a collegarsi è un è sempre un piacere eccoci qua siamo prontissimi vedo quindi è sempre un piacere eh avere dei prestigiosi ospiti eh stasera abbiamo una un'azienda che è storica in Piemonte e soprattutto è fa un po' la tradizione un po' la storia del possiamo chiamarlo magari Chiara il bianco un po' per per eccellenza del Piemonte perché Chiara Soldati è con noi della Cantina L'Ascolta buonasera 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 Ennio ma sicuramente sì il il Cortese è un è una denominazione il Gavi è una denominazione che è nata nel negli anni settanta e con la precisione per la precisione nel settantadue la DOCG nel nel novantotto e rappresenta sicuramente una grande bandiera dei vini bianchi eh piemontesi con una distribuzione internazionale e ed è stato sicuramente un'intuizione della mia famiglia in una terra di rossi centodue anni fa introdurre un un vitigno a bacca bianca nella zona di Gavi il Cortese è un vitigno che già c'era nella zona del Monferrato e che nel Gavi poi ha trovato la sua dimora diciamo per eccellenza diciamo così insomma quindi quando si parla poi Cortese eh diciamo di di nome di fatto poi no il vitigno diciamo allora io su questo dico sempre Cortese è il nome del del vitigno ma il il vino Gavi è tutto perché Cortese nel senso che ha una una sua una su un suo carattere un suo eh diciamo un profilo gustativo con questa mineralità questa salinità importante che ehm invece è un vino sicuramente mascolino ecco quindi è sicuramente molto interessante e anche eh diciamo adatto all'invecchiamento. Assolutamente questo adesso infatti mi piacerebbe approfondire un po' abbiamo detto la 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 cantina più di cento anni no? Assolutamente sì cento due per la precisione io sono la quarta generazione e attendo presto mio figlio che continuerà espresso questo desiderio diciottenne ha già lavorato in vigna come stage lo scorso anno e insomma diciamo che nel DNA ci ci saranno le le viti e il vino anche per lui adesso comincia un lungo periodo di apprendimento ma la storia continua. Hai detto una cosa bella cioè ha fatto uno stage cioè significa che parte dalla base no per diventare grandi. Assolutamente sveglia alle cinque del mattino e lavoro per per due mesi in vigna eh quindi è stato un bello stage e continuerà a fare apprendimento e esperienze formative perché non come ho fatto io al mio tempo ventisette anni fa eh se non conosci come nasce il prodotto se non conosci la tua terra non potrai mai essere un bravo imprenditore. Assolutamente sì eh su che territorio diciamo si si espande la cantina la scorca? Allora in termini di di territorio noi siamo molto fortunati perché abbiamo la maggior parte dei nostri vignetti eh su un terreno argilloso con delle marne tuffiche eh alcuni vignetti sono in zone eh diciamo leggermente più calcare ma la maggior parte del nostro vigneto ha una base argillosa e rappresentiamo circa tra proprietà e conduzione una cinquantina abbondante di ettari. Ho capito. De io mh voi spumantizzate molto e poi tra l'altro dopo assaggiamo un ottimo spumante brutto eh vini fermi vini spumanti e diciamo quale che preferisce di più il cliente di vostri prodotti? Allora noi nasciamo con il vino nel senso che la la nascita di la scolca era quella di creare ehm un grande bianco italiano che potesse rappresentare una diciamo uno chablis italiano la mia famiglia non era nativa di Gavi era nativa di Torino il vino era una grande passione e quindi si è cominciato a produrre vino per passione però durante il periodo tra il 1919 anno di fondazione dell'azienda e il secondo dopoguerra oltre alla produzione di vino per la famiglia quindi per un uso tra tra amici la l'eccedenza veniva data a Martini e Cinzano come base spumante. Ah ecco. Quindi l'origine di questa idea della spumantizzazione nasce proprio dai primi passi dell'azienda. Dopo la seconda guerra mondiale Martini e Cinzano decidono che il cortese fosse troppo costoso seppur molto longevo e quindi una grande spalla ad esempio per il grande riserva Montelera e la scolca comincia a eh imbottigliare tutto eh il vino prodotto e a collocarlo nei ristoranti cominciare a fare un marketing eh anteliteram. Solo negli anni settanta mio padre eh anche diciamo incoraggiato dal nostro cugino Mario Soldati che veniva in azienda ad assaggiare queste prove di spumantizzazione mono vitigno quindi cento per cento cortese nasce pochi anno dopo la mia nascita e lo spumante che io ho sempre considerato mio il mio fratello che non ho e e la cosa poi interessante è stato che il vino al core business rappresenta più dell'ottanta per cento. Ma lo spumante è rimasto una grande passione e quello che è per noi eh fonte anche di grande soddisfazione perché è un mondo creativo. Allora è è stupendo quello che dici. Quello che che è stato simpatico è che tu hai detto con una leggerezza Mario Soldati no? Io ho visto che lo so chi è Mario cioè il tuo Mario Soldati lo so ma cioè ricordiamoci il il Mario Soldati. Ma allora sì Mario Soldati è stato un grande scrittore, regista, poliedrico eh è stato è nato regista prima. Grande esperto di vino e non solo di vino ricordiamoselo questo. Allora se per noi la produzione è stata una grande passione per Mario Soldati la passione dell'inogastronomia è diventata poi appunto una con complemento della sua grande creatività e quindi grande appassionato dei territori ci ricordiamo tutti vino al vino la prima guida eh di di vini corredata da foto e da profili dei produttori quindi una cosa assolutamente geniale e moderna e poi il mitico eh la mitica trasmissione sulla Rai al lungo la Valle del Po. Certo che sì. Senti eh prima di di andare magari sul tuo sito vinto se sei d'accordo per vedere un po' tutta la produzione vorrei far vedere un bellissimo filmato di un minuto poco più di un minuto ma è molto bello mi piace molto lo condividiamo approfittiamo delle della nostra tecnologia messa a disposizione e iniziamo grazie a tutti. 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 fa venire voglia di arrivare in cantina da voi è questa pronti e ma abbiamo tantissime proposte experience sono convintissimo senti andiamo un attimo sul vostro sito internet un attimo andiamo ecco magari spostiamo qui perché eravamo in in altre cose per trasmettere su facebook questa intervista allora io andrei su la parte che riguarda proprio i vini un attimino che la troviamo eccolo qua ecco qua i vini allora prima di tutto bianchi rossi rosati spumanti e riserve i bianchi sono chiaramente tutti fermi questi qui sono tutti fermi abbiamo il gavi valentino che diciamo il gavi più giovane ottenuto con i vigneti più giovani per un consumo diciamo quotidiano abbiamo il il nostro etichetta bianca ed etichetta villa eh che invece sono prodotti con vigneti diciamo più maturi il questo con la packaging diciamo da chablis è il nostro gavi villa era il vino della casa diciamo quello che era l'etichetta bianca è il questo l'etichetta bianca ed è il nostro gavi storico insieme all'etichetta nera ecco l'etichetta le facciamo vedere eccole qui l'etichetta nera è il nostro grande vino eccolo qua eh meglio chiamato in etichetta nera o gavi dei gavi marchio registrato di di la scolca e e questo sicuramente è un po quello che noi consideriamo il nostro prodotto più rappresentativo del dell'azienda e e poi c'è un nuovo nato che che l'ultimo che vediamo eh il solui è un sauvignon blanc con un taglio di di cortese e sauvignon di nostra di nostra produzione un vino pensato per un consumo senza pensieri la risposta a questi mesi bui e mesi veramente diciamo che hanno messo un po' a dura prova tutti e quindi questa è stata la nostra risposta a questo periodo perché solo lui allora solo lui solo lui solo lui però è scritto no perché è perché dovevamo avere una come dire una un nome corto e quindi solo lui e poi perché solo lui è una dedica mia mamma soldati ecco ecco ma ci siamo c'era qualcosa che non mi tornava poi rossi e rosati mi dico pino nero eccolo qui il e rosa chiara eccolo qua pino nero cerchiamo eccolo qui caricato monferrato doc rosso pino nero cento per cento esatto tutto di nostra produzione nato più di vent'anni fa eh su consiglio del nostro agronomo di Bordeaux dell'università di Bordeaux e molto è un pino nero molto diciamo classico molto diciamo scolastico ma interessante con delle note di pepe con delle note di ciliegia e e anche questo come tutti anche i nostri vini seppur bianchi con una lunga vita di invecchiamento certo e abbiamo detto l'altro invece è un rosato sempre da pino nero no interessante sapere che è prodotto col 95 per cento di cortese e un 5 per cento di pino nero ottenuti su contatto per contatto su ecco quindi mettete a contatto in macerazione praticamente a contatto con le buste del pino nero per un breve tempo assolutamente sì per un breve tempo e si colora praticamente di una notte di una notte di una notte ok direi di andare alle riserve d'antani invece che mi incuriosiscono allora tornare indietro poi agli spumanti riservi hanno una una storia molto interessante nel senso che nascono nel momento in cui io ho cominciato a a muovere i primi passi in azienda e sono stati un po' una dote enologica da parte di mio padre abbiamo scoperto nel nella produzione del nostro metodo classico che poi andremo ad assaggiare dopo nella formulazione della liqueur d'expédition noi abbiamo sempre aggiunto il vino pari annata allo spumante assaggiando questo vino invecchiato abbiamo scoperto un potenziale enorme e così nasce il gavi dei gavi d'antan quindi un gavi d'antan eccolo qui che diciamo è invecchiato dieci anni e i vari diciamo la con il complemento quindi la versione spumante la versione spumante rosetta un problemino di connessione eccolo qua eccolo qua bella l'etichetta tra l'altro disegnata da noi noi abbiamo questa questo questo difetto che siamo creativi a 360 gradi perché tutte le etichette sono state disegnate sono state disegnate da noi e il nome d'antan è stato conferito da mia mamma in un giorno in cui lo assaggiavamo proprio perché questo vino all'assaggio ricorda delle note della memoria quindi le il gusto delle delle torte al limone i canditi eh il bergamotto candito quindi un po il vino della memoria un vino che sorprende per la sua freschezza la sua vivacità e e quindi è un è un vino veramente speciale mi dispiace che sono state due tre volte che sei frizzata cioè nel senso c'è un problema di collegamento da 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 parte diciamo da da dove c'è il collegamento tu ma insomma pochi attimi eh senti allora ehm abbiamo detto riserve d'antan e poi brutto millesimato d'antan e sempre brutte rosè millesimato tutti millesimati quindi annata corrente diciamo c'è l'annata di il d'antan adesso esce con l'annata duemilasette e anche lo sfumato ecco ho capito il millesimato da dove il d'antan millesimato rosè il rosè è sempre cortese su eh macerato sulle bucce brevemente allora no noi facciamo e diventa rosato è rosato perché abbiamo la la liqueur d'espedizione con il pino nero quindi noi abbiamo lo lo millesimiamo durante la ecco ho capito quindi aggiungi aggiungete l'ichera d'espedizione del pino nero avete detto esattamente ho capito buono sì c'è un problema proprio di connessione purtroppo proprio connessa proprio alla rete però in collina eh vabbè come come dico sempre ci sta chi è più molto più importante di me in televisione ogni tanto ha problemi insomma può capitare che succede anche a noi insomma speriamo che nel recovery found ci diano anche un po' più di fondi per le nostre connessioni siamo un po' indietro io sono collegato in linea ottica quindi sto abbastanza tranquillo ma insomma qui ho avuto la fortuna di avere la linea ottica qui qui da me quindi io viaggio di solito insomma i sei settecento mega è come andata su una ferrari però se poi dopo vai su una statale dopo come come corsia non serve a niente allora rugri allora il rugri eh innanzitutto il nome ricorda è il involgo il bosco di roveri noi ne abbiamo molti in questa zona è nato come uno spumante facile e semplice per un uso spensierato quotidiano per un diciamo per rendere speciali tutti i momenti visto che io sono dell'idea che non dobbiamo avere dei momenti speciali per aprire i nostri spumanti ma rendiamo speciali i nostri momenti prendendo con degli spumanti speciali quindi un vino facile semplice giovane ed è un diciamo un modo per entrare a conoscere la scolca note fresche di mandorla di frutto e un vino che ricorda l'estate. Per quello che hai detto tu prima approfitto perché mi è venuto un ricordo no circa vent'anni fa quando mi sono avvicinato a questa a questa passione eh andai da a conoscere un mio amico sommelier che poi è un amico carissimo ancora e mi disse dei dei vini ma io a casa ho dei vini ma li tengo per le grandi occasioni e lui mi disse dice sbagli dice perché la grande occasione te la devi creare e hai detto la stessa cosa in pratica quindi è è proprio così è vero creiamo c'era l'occasione non l'aspettiamo e per bere bene c'è sempre un buon momento allora poi soldati questa c'è la linea soldati praticamente brutto e millesimato brutto che andremo ad assaggiare e il pado se esattamente esatto che è quello che assaggiamo oggi e poi c'è il blan de blanc che è nato eh l'anno scorso per celebrare i 18 anni di mio figlio perché in una usanza un po' francese i grandi eventi di famiglia vengono sempre un po' ricordati con la nascita di un vino di un vino certo è giusto è giusto così ma sicuramente poi il blan de blanc è cortese in purezza giusto assolutamente sì ed è stato scelto proprio per poter esaltare le le notte diciamo più fresche più fruttate del cortese che invece nella sua evoluzione con ad esempio la linea soldati invece abbiamo la ricercatezza la corposità del lievito e quindi una complessità di aromi maggiore il blan de blanc proprio il vino della primavera il vino dell'estate un vino che richiama anche nel packaging appunto questa sua freschezza assolutamente sì io adesso andrei a parlare del vino che invece degusteremo tra poco che è il soldati brut eccolo qui eccolo ne parliamo un momento e poi passiamo all'assaggio eh teniamo tenete conto insomma che io sono uno di quelle persone che col vino pasteggia cioè a me col vino scumante per le bollicine le amo proprio da da impazzire per me c'è sempre un buon momento per una bollicina quindi questi qui della i vini della della cantina la scolca insomma io la conosco da tempo quindi è sempre è sempre un buon momento ecco torniamo sempre a quello che dicevamo prima allora parlaci periodo si si va sempre bene beviamoci sopra guarda bene ma beviamoci sopra quindi cento per cento cortese anche questo assolutamente sì la caratteristica di questo spumante è innanzitutto quella di distinguersi eh per il fatto di essere di non essere un blend ma di essere un cento per cento mono vitigno e cento per cento cortese il cortese dicevamo prima nella sua versione giovane in gioventù lo 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 riteniamo caratterizzato dalla mandorla dalla salinità dalla mineralità eh dal fiore bianco quindi da una sua freschezza che poi viene è declinata ovviamente in in tanti modi con anche l'età dei vigneti differenti nella sfumantizzazione invece notiamo che con la diciamo l'invecchiamento queste note fresche rimangono sicuramente soprattutto nella parte finale dell'assaggio in termini proprio di pulizia di tasting elegante e ehm e molto pulito ma ehm acquisiamo in ricchezza di aromi e sentori che ricordano la crosta di pane il lievito il diciamo l'agrume eh che non è più l'agrume fresco ma è un agrume leggermente più ehm diciamo più rotondo tipo eh le diciamo le gelatine di frutta di ricordavo prima nel millesimato il il candito e quindi noi eh abbiamo in questo caso ancora una freschezza di aroma ma se andiamo ad assaggiare i millesimati eh dei appunto fino a dodici anni sentiamo il cioccolato sentiamo le note di pasticceria la brioche eh e questo li rende assolutamente molto molto particolari perché non sono baricati non sono blend quindi è la perizia è l'astuzia è la 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 diciamo la capacità di far invecchiare il vino e avere un vino base di prima qualità assolutamente andrei io adesso un attimo a ecco all'assaggio ho lasciato non l'ho versato nel bicchiere nel calice perché ho voluto farlo eh ecco qua speriamo che si vede bene non assaggio perché sono ancora in ufficio e tra poco devo viaggiare da casa in autostrada quindi eccolo qua guarda dice dice tutto dice guardate qua guardate che meraviglia l'ho voluto fare apposta perché poi dietro il chroma key chiaramente magari eh diventa un po' trasparente ma eccolo qua guardate se riesco a farle vedere bene le bollicine quante sono quanto sono piccoline no ecco qua quello che a me piace ho detto questo lo conosco sono questi insieme di profumi no profumi proprio questi fiori questi fiori freschi questa questa frutta e questi fiori di man fiore di mandorla soprattutto al naso mi piace moltissimo poi rimane questo eh diciamo questa coroncina che a me piace tanto dello spumante perché non non è troppa e non va via subito e mi accompagna praticamente durante la degustazione mi piace moltissimo e poi tanti tante tante bollicine molto piccole eh numerose eh è è sicuramente un bel vedere anche un bel bere no assolutamente assolutamente sì perché eh può accompagnare come dicevamo prima un aperitivo ma io amo molto il lo spumante a tutto pasto come abbinamenti diciamo col cibo con un crudo di pesce eccezionale ma anche con una pasta con con le vongole con i frutti di mare ma anche con una grigliata di pesce con con un astice con una catalana ecco un astice ce lo vedo molto bene anche un tagliolino una linguina magari all'astice in bianco possibilmente sabato ho fatto un uno shooting fotografico e c'era con me uno chef ehm che mi segue da da anni e abbinato ad uno spaghetto con burrata e botarega mamma mia era meraviglioso perché la salinità la sapidità della botarega andava a dare e a esaltare la sapidità del dello spumante e allo stesso tempo la pulizia di quella nota grumata che dicevamo prima andava a bilanciarsi perfettamente con la burrata quindi c'è solo che da sbizzarrirsi perché è veramente molto versato io l'ho assaggiato è molto 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 persistente in bocca una leggera nota la marogno la piacevole sul finale che rimane molto questa nota fruttata e questa nota abbiamo detto proprio di mandorla di mandorla amara tostata sul fondo e prova a dire allo chef tanto lo sa sicuramente poi piatto facilissimo un risottino allo champagne ma diciamo allo spumante al gavi è molto molto semplice che è in bianco si pasteggia con brodo vegetale e spumante in parità almeno io la facevo così in parità di di quantità quindi il riso si cuoce praticamente all'interno di brodo e riso e scusa e spumante alternandolo e poi altre cose insomma poi lo chef lo saprà sicuramente credo che questo qui ci stia benissimo perché ci cucini e ci bevi anche rimanendo poi l'amido in bocca rimanendo poi questo questa pastosità in bocca poi bevendo lo spumante dietro pulisce e si amalgama bene sicuramente con con il piatto gastronomico se se ti va provaci penso che sia molto buono allora guarda l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto in vendemmia con all'interno gli acini aperti molto interessante assolutamente la gelatina di questo questo metodo classico abbinata a una bianco mangiare allo zafferano ci guarda è un è un argomento interessantissimo e poi io incito chi ci segue a provare a pasteggiare con lo spumante non relegarlo all'aperitivo o peggio ancora col dolce che no va bene insomma col dolce c'è altro esatto sì sicuramente ottimo sugli antipasti insomma ci avrei molto versatile comunque sia insomma un po' la fantasia berlo da solo comunque va sicuramente bene assolutamente assolutamente senti e progetti futuri allora progetti futuri tanti perché in questo lungo anno passato e questo che appunto ci è cominciato non avendo il tempo sui mercati come abitualmente io mi dividevo tra l'azienda e mercati dedicando tanto all'azienda ovviamente ancora migliorare la nostra qualità di produzione quindi con un occhio sempre più attento all'ecosostenibilità al futuro quindi ci sono in abbiamo in atto importanti investimenti per continuare questo noi nuovo nostro indirizzo che lo abbiamo sempre fatto noi abbiamo sempre avuto un basso impatto ambientale abbiamo fatto sempre avere una bio sostenibilità di alternando i vigneti ai boschi anche quelli proprio che ho alle mie spalle rinnovo 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 dell'energia solare recupero delle acque quindi una un protocollo sempre più attento a questo e quindi andando verso l'idea della certificazione e questo è uno dei grandi progetti un altro progetto è quello di continuare ovviamente ad acquisire nuovi ettari per continuare a seguire questo nostro concetto importantissimo di essere produttori quindi avere le nostre uve e poi ultimo ma assolutamente non ultimo tutto il percorso di accoglienza dei nostri ino turisti perché in un momento come questo di viaggi all'estero negati è bello riscoprire i nostri territori e anche i nostri territori in prossimità quindi abbiamo in programma dei corsi di cucina in azienda territoriali non territoriali abbinamento con i vigili degustazioni degustazioni verticali di varie annate le passeggiate didattiche nei vigneti e tante opportunità che il nostro territorio ci offre abbiamo quattro golf intorno a noi ci sono delle piste eh ciclabili percorsi ciclabili meravigliosi sono le terre di Fausto Coppi ci sono tantissime cose da poter fare nell'area aperta in sicurezza e vicino a casa sicuramente la voglia ce n'è tanta quindi stiamo soffrendo ma è il momento che si potrà viaggiare io sarò uno di quelli eh ci sfogheremo diciamo così per mettermi la parola cioè proprio per poter viaggiare non potremo andare all'estero ci potremo la nostra bella Italia possiamo anche molto fortunati ecco accidenti accidenti che sì un'ultima domanda e chiudiamo questa piacevole intervista eh dacci un buon motivo per bere acquistare i vini la scolca quando parliamo di la scolca non parliamo solo di tecnica non parliamo solo diciamo di un'azienda ormai conosciuta da centodue anni ma parliamo di una famiglia di una storia di passione ed emozione i vini veri sono quelli che ti emozionano e che ti ricordi e noi speriamo con i nostri vini di emozionare e di accompagnare i vostri momenti migliori guarda io mi faccio emozionare un'altra volta perché mi sono versato ancora il il tuo brut e quindi ti ringrazio ti saluto con un meraviglioso vino spumante Gavi della cantina la scolca grazie grazie complimenti con una con una citazione di Mario Soldati che il vino è la poesia della terra assolutamente sì sono d'accordissimo grazie grazie tante ciao grazie grazie a tutti vi ricordo che questo video rimane qui ovviamente sulla pagina di dell'associazione sommelier a tavola con bacco ma da domani lo trovate anche sul nostro profilo instagram e sul nostro canale youtube associazione sommelier a tavola con bacco dove trovate anche tantissime altre cose tra cui il corso di panificazione altre interviste e interviste con gli chef e così via quindi vi ringrazio e vi do appuntamento a presto con tanti tante tante attività che svolge l'associazione a tavola con bacco per voi grazie e buona serata a tutti ciao chiara ciao a presto